In studio con me c'è Marco Inverso, referente per la sicurezza nei luoghi di lavoro di Confapi. Buongiorno Marco, grazie. Cerchiamo un po' di capire come è cambiata la formazione negli anni, perché ha avuto un'evoluzione anche in questo senso, non sono più solo lezioni frontali che in qualche modo venivano così seguite dai lavoratori come una sorta di compitino per casa, non erano mai amate questi corsi di formazione nei luoghi di lavoro. Come sta cambiando, come fare a farle diventare qualcosa davvero di utile che possa essere interiorizzato dai lavoratori e come sindacati, che in qualche modo sono rappresentati da Alberto Irone adesso e organizzazioni Confapi, con la sua presenza, possono dialogare in questo senso? Sì, è vero, si sta modificando il modo di fare formazione, in realtà si sta andando nella direzione di aumentare l'efficacia della formazione. Come dicevi tu, la classica formazione frontale in aula serve per tramandare concetti scientifici, ma per aumentare l'efficienza e anche l'apprendimento bisogna cambiare anche il modo di parlare. Ci rendiamo conto di questo perché abbiamo a che fare con le persone. Mi permetto, nella settimana scorsa, in una tappa del Veneto, del forum INAIL, è stato proprio inserito il concetto del valore della persona. E cioè si dice che se la sicurezza è fatta per le persone, allora dobbiamo andare a considerare anche le emozioni e i bisogni di ogni singolo lavoratore. Ecco, in quest'ottica bisogna andare a rispondere ad alcune necessità e bisogni e valori dei lavoratori e parlare il linguaggio giusto. E quindi dire gli stessi concetti ma raccontarlo con linguaggi diversi. Ecco che si stanno diffondendo diversi modi anche di fare formazione, oltre alla formazione esperienziale che è assolutamente utile, e quindi di fare esperienza, oltre alle parole di fare anche la pratica. Anche si sono inserite modi diversi di fare formazione. C'è la commedia, c'è l'aspetto teatrale, c'è l'aspetto di una comunicazione differente, emozionale, che aumenta l'efficacia del racconto e del passaggio di nozioni. Esiste un gap con ad esempio i lavoratori stranieri, che sono ampiamente impiegati nei settori di cui abbiamo parlato prima? Sì, allora c'è il gap, ci sono due tipi di ragionamenti. Ci sono i lavoratori stranieri che lavorano in Italia e il fatto del nostro lavoro, insomma del lavoro di lavoratori italiani all'estero. A livello normativo, la normativa italiana, il Decreto 81, è quello più invidiato perché è completo, è strutturato e va a considerare tutte le variabili in gioco. E quindi è difficile per un lavoratore italiano andare a lavorare all'estero perché bisogna confrontarci con altre normative e altri modi di fare. Poi dipende, insomma, se sono stati europei o extraeuropei. L'altra problematica è il lavoratore straniero che lavora in Italia e qui c'è una problematica di comprensione della lingua, di comprensione della cultura e qui, insomma, ci sarebbe un ragionamento più ampio anche a livello culturale, come anticipava il collega prima. Addirittura lo Spisel dice state attenti perché sia a livello di formazione sia a livello aziendale il lavoratore straniero deve essere assolutamente in grado di comprendere quello che gli viene detto e per questo vengono fatti anche controlli sugli attestati che poi, insomma, devono corrispondere a una effettiva comprensione di quello che è stato spiegato e anche, chiaramente, nelle azioni quotidiane le operazioni che vengono date, insomma, le istruzioni devono essere comprese e attuate correttamente dal lavoratore straniero. Posito di benessere, all'epoca, con il governo precedente fu proposto per promuovere la parità di genero una sorta di patenti appunti per le aziende avrebbe un senso proporla anche per chi sa adeguarsi non solo con attestati alla mano ma anche con, insomma, un'applicazione pratica di quello che poi vuol dire rispettare le norme nella sicurezza nei luoghi di lavoro. Sì, bello questo concetto e anche quello che dice Irone provo a collegarli perché va contro la parte repressiva delle ispezioni, ok? È vero che gli ispettori devono andare a verificare le assenze, la non adempienza è altrettanto vero che però si dovrebbero dare appunto dei premi per chi nelle aziende fa effettivamente sicurezza. c'è qualcosa a livello di contributi economici come i bandi dell'INAIL si dice che non sono sufficienti anche perché le risorse finiscono molto presto è chiaro che però si cambia prospettiva e questo cambio di prospettiva è fondamentale assemblea con Fabio della scorsa settimana uno degli argomenti è stato anche l'attrattività del lavoro e qui mi collego anche con il benessere di cui parlava Irone sempre più una variabile che il lavoratore sceglie per andare a scegliere il lavoro è il benessere, la qualità della vita all'interno dell'azienda e questo atteggiamento, questo soddisfacimento di questo bisogno sta effettivamente poi cambiando ecco che c'è il cambiamento spontaneo nel mondo del lavoro perché c'è difficoltà nel trovare lavoratori c'è la difficoltà di andare a organizzare il tutto tutta questa cosa è nel concetto di organizzazione di cultura della sicurezza all'interno dell'organizzazione il 12 maggio facciamo proprio e qui mi collego al concetto della fragilità una tavola rotonda con le istituzioni con lo spisal, con l'ispettorato del lavoro, con le scuole perché si va a ragionare su un concetto di inclusione e cioè superiamo questo concetto di sicurezza maschilmente neutra andiamo a considerare e qui anche dal discorso che facevamo prima del linguaggio ecco perché deve cambiare perché abbiamo a che fare con ragazzi con ragazzi di alternanza scuola lavoro che non hanno esperienza e devono imparare i termini base sulla sicurezza e quindi avremo le scuole bisogna parlare con lavoratori stranieri bisogna lavorare con lavoratori fragili ecco che si ampia il concetto di lavoratore si ampia il concetto di fragilità si deve modificare anche il modo di interagire con questi sia nella comunicazione e quindi nella formazione chiedo ad entrambi, chiedo di essere velocissimi esiste un problema legato alla struttura produttiva del nostro territorio un conto sono le aziende, un conto sono le piccole, piccolissime meglio imprese del nostro territorio che oggi hanno a cuore di riuscire ad arrivare a fine mese con i rincari piuttosto che l'assicurazione dei luoghi di lavoro vi chiedo se concretamente esiste questo problema e una battuta al volo per capire come intervenire esiste sì bisogna superare anche qui bisogna avere un po' di fiducia mi spiego meglio l'efficientamento della sicurezza porta anche a un miglioramento dell'efficacia produttiva e quindi le due cose non sono assolutamente scollegate anzi si diceva proprio nella tappa veneta del forum INAIL che un investimento di un euro è più produttivo va a conto di più insomma investimento in sicurezza porta a un reddito superiore all'euro e quindi bisogna credere in questa bisogna aprire al pensiero dei lavoratori rispetto, ascolto e partecipazione attiva del lavoratore porta a una migliore organizzazione anche dal punto di vista della produttività grazie Marco Inverso per Confapi grazie per essere stati con noi